Signori, non è il 2000, quindi non è la bolla delle dot com, ma sui mercati ci sono alcune somiglianze che dovremmo conoscere. Sicuramente come a me non tutti già negli anni 99-2000 erano operativi sui mercati finanziari, ma ho raccolto una serie di informazioni di chi ha vissuto quel periodo da vero operatore. Dalle loro parole è trapelato da un lato il timore che la fine del secolo avrebbe portato un calo all'era dei computer, perché i computer non sarebbero stati in grado di gestire il cambiamento di quel periodo storico. Dall'altro si credeva però che internet avrebbe messo il turbo al mondo con massicci aumenti di produttività, in effetti così poi è stato, basta guardare oggi. In quel momento storico l'S&P 500 e in particolare il Nasdaq registravano un nuovo record storico giorno dopo giorno e a guidare la crescita dei mercati erano davvero i grandi nomi in forte ascesa. È interessante notare che proprio come allora stiamo assistendo a molti investitori che inseguono tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Mi verrebbe da dire che la scorretta selezione di aziende in questo caso potrebbe riservare davvero brutte sorprese. Considerate che i dirigenti non riescono a smettere di parlare di intelligenza artificiale. Il numero di aziende che hanno menzionato l'intelligenza artificiale è aumentato vertiginosamente dal lancio di chat GPT. C'è una differenza però sostanziale tra la crescita dei prezzi delle aziende durante la bolla delle dot com e oggi. Oggi si cresce supportati anche da una crescita proporzionale degli utili, aspetto che nel 2000 ad esempio mancava. Quando la bolla delle dot com si gonfiò, i fornitori di ETF furono costretti ad acquistare quantità crescenti delle azioni più capitalizzate e performanti per cercare di stabilire un equilibrio con l'intero indice. Oggi i primi 10 titoli dell'indice S&P 500 pesano per più del 30% dell'intero indice. La concentrazione dei fussi verso le maggiori società ponderate in base alla capitalizzazione di mercato continua ad aumentare la capitalizzazione di pochi titoli principali a livelli ben superiori a quelli della bolla delle dot com. Pensate che oggi 10 titoli dell'indice S&P 500 pesano per più del 30% dell'intero indice. Cioè questa concentrazione di flussi verso le maggiori società ponderate in base alla capitalizzazione di mercato continua ad aumentare a tal punto da essere sopra le stesse caratteristiche legate alla bolla delle dot com come mostra questa ulteriore immagine. Per fare un esempio ancora più eclatante basterebbe prendere le prime 3 dell'indice S&P 500 oggi pesano oltre il 20% del listino. Questo alla lunga non può che essere un aspetto da attenzionare in quanto basta semplicemente un movimento brusco di 3 azioni per influenzare significativamente il movimento di una scatola chiamata S&P 500 che oggi racchiude non 3 ma 500 aziende. La crescita forzata delle maggiori società dell'indice pur ricordando il 2000 non significa che porterà necessariamente un'inversione immediata. Anche se si trattasse di una vera e propria bolla potrebbe durare molto più a lungo di quanto la logica suggerirebbe. E ci sono sempre alcuni segnali specifici di alert da attenzionare. Questi magari li tratterò nel nostro percorso formativo nel tempo. Se sei interessato, attenzione, oggi puoi acquistare il pacchetto trimestrale con uno sconto del 30%. Trovi il link della promozione qui in basso in descrizione. Ma adesso torniamo a noi. Proprio come nel 2000, ciò che alla fine potrebbe provocare un'importante inversione di mercato è quando la realtà non riesce a soddisfare le aspettative. Attualmente le aspettative di crescita sugli utili sono un trend di rialzo esponenziale. Guardare ad esempio le prossime trimestrali o i prossimi dati relativi all'inflazione che impattano sulle scelte di politica monetaria delle banche centrali è già un buon punto di partenza, oltre che i costanti segnali tecnici che i mercati, anche su un semplice grafico settimanale, hanno sempre fornito nel passato prima di importanti fasi di inversione. Nonostante ci sia una differenza lato crescita utili già trattate in avvio di video, curioso notare questo grafico che sovrappone due ere a confronto. Cisco System era dot com bubble e Nvidia oggi con l'esplosione dell'intelligenza artificiale. Molto simili, curioso, questa è una cosa che vi volevo condividere. Di recente sul tema intelligenza artificiale si è esposto anche il Wall Street Journal che ha notato come l'intelligenza artificiale ha avuto un percorso sorprendente da quando l'OpenAI ha presentato JAT GPT al mondo, era la fine del 2022. E Nvidia ne è stata la più grande vincitrice perché tutti corrono per acquistare i suoi microchip. Questa non è la solita mania speculativa, i profitti di Nvidia stanno aumentando alla stessa velocità del prezzo delle sue azioni, quindi se c'è una bolla è una bolla della domanda di chip, non è una bolla azionaria in questo momento. Ma cosa potrebbe andare storto con questo nuovo trend legato all'intelligenza artificiale? Secondo Wall Street Journal ci sarebbero tre dinamiche in particolare. La prima, la domanda diminuisce perché l'intelligenza artificiale è sovrastimata, proprio come abbiamo visto con le società della dotcom bubble. Secondo, la concorrenza che potrebbe in qualche modo ridurre i prezzi di mercato. Tre, i fornitori che chiedono una quota più significativa delle entrate. In generale quanto più un'azienda diventa grande, tanto più difficile diventa raggiungere un tasso di crescita elevato. Vi faccio un esempio, un'azienda che ha una quota di mercato dell'1% potrebbe facilmente raggiungere il 2%. Tuttavia, quando un'azienda ha una quota di mercato dell'80%, per raddoppiare le vendite è necessario espandere il mercato o entrare in nuovi mercati dove non è così forte. Le imprese tendono inoltre a diventare meno efficienti e innovative man mano che crescono a causa delle diseconomie di scala. Ho alcune statistiche molto interessanti, ma questo video diventerebbe davvero troppo lungo. Ho deciso di condividerle gratuitamente però sul nostro canale Telegram. Se vuoi unirti, trovi il link gratuito qui in basso in descrizione. L'ultima volta è stato un grandissimo successo. Stiamo organizzando un nuovo webinar in collaborazione con il nostro broker partner Swissquot dal titolo Strategie vincenti per il secondo semestre, quindi per la seconda metà dell'anno. Come dicevo prima, il primo webinar che avevamo realizzato con Francesco e Stefano ha portato importanti risultati perché ricordo che avevamo condiviso statistiche a favore di un rialzo dei mercati per questa prima metà del 2024. Siamo stati insomma fortunati. Vedremo in questo nuovo webinar se i nuovi dati raccolti che andremo a mostrare daranno valore aggiunto come i precedenti già mostrati. Puoi iscriverti gratuitamente anche a questo webinar, trovi sempre il link qui in basso in descrizione. Signori, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Spero il contenuto vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un mi piace al video o con un commento qui in basso. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie.